Realizzare un evento sportivo mondiale a impatto zero inventandosi il modo di ridurre di 20.000 tonnellate le emissioni di CO2 in atmosfera. L'evento in questione è l'Universia d'Invernale 2013, ospitata in una dozzina di località del Trentino dall'11 al 21 dicembre. L'obiettivo, ambizioso, è contenuto in un Manifesto della Sostenibilità, messo a punto dal Consorzio dei Comuni Trentini, dal Comitato Organizzatore e dal PFC Italia, lo schema che permette di certificare le foreste gestite in modo sostenibile. Una serie di buone pratiche che hanno coinvolto amministrazioni pubbliche e cittadini, imprese private e associazioni. Ma come ha inciso il progetto Universia d'Impatto Zero nella vita dei Trentini? Per scoprirlo siamo andati a Rovereto, località non direttamente coinvolta nelle gare sportive, ma non per questo il Comune ha rinunciato a fare la propria parte nella sfida contro l'anidride carbonica. La città di Rovereto partecipa al progetto Universia d'Impatto Zero. Come? Ma attuando una serie di provvedimenti per abbassare il consumo di energia e quindi di conseguenza la limitazione delle emissioni nocive, in particolare i gas serra, quindi la produzione di anidride carbonica. Due sono i provvedimenti principali, quello di ridurre il riscaldamento negli uffici pubblici, ovviamente non nei luoghi sensibili come le scuole, gli asili eccetera, ma negli uffici dove appunto si fa amministrazione si. E poi l'altro quello dell'abbassamento dell'immunitazione pubblica, quindi minor energia consumata significa anche minore emissioni gassose. Due azioni virtuose all'interno di un quadro in cui le attività per la riduzione dell'impatto umano sull'ambiente non sono certo cosa nuova. Nel campo della mobilità, promuovendo l'utilizzo di mezzi sostenibili come la bicicletta, gli autobus, quindi il mezzo pubblico, ma poi anche con la raccolta dei rifiuti, incentivando la raccolta differenziata, ricordo che Rovereto è tra le prime città in Italia con quasi l'80% di raccolta differenziata e poi altri settori sul risparmio energetico, per esempio migliorando l'efficienza dei consumi, insomma piccole azioni per fare dei grandi cambiamenti e le universiadi sono un buon esempio che bisognerebbe poi esportare. Io mi auguro quindi che alla fine delle universiadi questo virtuosismo nei propri comportamenti possa continuare. Ma come Rovereto sono state decine gli enti pubblici coinvolti nello sforzo anti-CO2, che, assicurano i ricercatori dell'Università di Trento, che hanno ideato il progetto e calcolato le emissioni, non rimarrà un caso isolato. Quello che si è fatto per l'Universiade è solo un'idea apripista, che dimostra come sia possibile organizzare grandi eventi collettivi senza necessariamente danneggiare un territorio né impoverire le casse pubbliche. Io penso che possa diventare effettivamente un modello per eventi futuri non solo in Trentino della Verità, ma anche in altre località nazionali e internazionali, perché in fondo si tratta di applicare buone pratiche che, alla fine dell'evento, comportano addirittura un risparmio, oltretutto di risorse, non un aggravio dei costi. Quindi ha tutti i vantaggi per l'ambiente e anche per le casse dei comitati organizzatori. Grazie. 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 Grazie.